La solennità di Pentecoste, che costituisce l'apice del tempo pasquale, si è arricchita, se possibile, della gratitudine per la canonizzazione avvenuta in Vaticano il 15 maggio scorso di Santa Maria Domenica Mantovani, co-fondatrice insieme al Beato Giuseppe Nascimbeni della Congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Il Cardinale Arcivescovo ha presieduto la solenne celebrazione in cattedrale alla presenza delle reliquie della Nuova Santa e soprattutto delle religiose delle tre comunità presenti in diocesi, alla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, alla Casa Piccola Nazareth nel Centro Storico, alla Casa Protetta Sacra Famiglia di Pianoro. La Chiesa, ha detto il Cardinale all'Omelia, è una comunità di peccatori ma pieni dell'amore di Dio, non perfetti ma amati. Lo scandalo non è di essere peccatori o scoprirsi tali, ma di essere senza spirito, tiepidi, isolati, egocentrici. L'amore di Dio è un fuoco, riscalda, illumina, brucia la paura e l'orgoglio, scalda ciò che è freddo, piega ciò che è rigido. Non è un programma, è molto di più, è amore. Maria Domenica viveva uno spirito francescano, ispirata dal beato Giuseppe Nascimbeni, non a caso le piccole suore, piccole ma non timide, piccole ma non modeste, piccole per amare i piccoli, piccole per fare le cose grandi. Maria Domenica era mite e materna, attiva e aperta al mondo, ma essendoci andato una volta tutto praticamente si sviluppa, credo dall'inizio alla fine, a Castelletto di Brenzone, che è un posto bellissimo, non c'è dubbio, ma può avvenire qualcosa di buono da Castelletto di Brenzone? Che certamente non è nemmeno Verona, non è nemmeno un luogo importante, è come Nazareth da cui prendete il nome, perché sono i piccoli che fanno le cose grandi. Al termine della celebrazione le sorelle sono salite in presbiterio dove hanno posato per una foto ricordo con i concelebranti davanti alle reliquie della Santa collocate ai piedi del crocifisso. Chiediamo a Santa Maria Domenica di pregare per noi, per i tanti piccoli e perché in questo tempo di buio, di difficoltà, siamo forti dell'amore dello Spirito del Signore. Papa Francesco ha canonizzato il 15 maggio scorso con Santa Domenica Mantovani anche il laico indiano Lazzaro de Vashayam, il sacerdote francese César de Buse, il monaco Charles de Foucault, i sacerdoti italiani Luigi Palazzolo e Giustino Russo Lillo, la prima Santa Uruguayana Maria Francesca Arrubato, le religiose Maria di Gesù Santo Canale e Marie Rivier e il martire olandese Titus Bransma.